Bene, ciao a tutti! Come state? Bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video di strategia, perché in questi momenti in cui i mercati stanno un po' crashando, stanno un po' scendendo, può essere molto utile andare a ragionare su una strategia di ingresso sul mercato sulle dip. Cosa sono le dip? Come si fa una strategia di dip in un momento del genere sul mercato? Come possiamo attuarla facendo un esempio pratico dal vivo in questo momento su Bitcoin o ETH? Lo vedremo in questo video. Oggi mi sento un po' canterino. Come si fa allora a comprare nelle dip? Intanto ragazzi, la strategia in questione, quella che vedremo oggi, è una strategia di trading. È sicuramente raggruppabile in quelle che sono le strategie di trading da utilizzare, una delle più famose, cioè comprare quando un mercato fa delle fasi ribassiste. Però, 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 non è solo ed esclusivamente una strategia di trading, perché in alcuni momenti è un modo interessante anche per entrare su un mercato per fare investimento di medio-lungo periodo. Quali sono i presupposti fondamentali che creano una strategia di dip? Dovremmo avere un trend di medio-lungo periodo che comunque è a rialzo. E nelle fasi calanti, quindi nelle fasi di correzione di questo trend, possiamo andare a comprare quell'asset, quello strumento finanziario proprio su queste fasi correttive. Perché faccio questa sottolineatura? Perché ragazzi, spesso la strategia buy dei dip viene confusa con il buy contro trend, che invece è un errore a prescindere dall'esito dell'operazione in tutti i sensi. Quindi dove si applica, si applica. È comunque un errore di trading, perché comprare un mercato contro trend vi espone a un rischio abnorme in termini di potenziali perdite. Allora utilizzo questa immagine semplicemente per farvi capire a livello teorico come funziona questo tipo di strategia. Su un trend linearmente rialzista andiamo a comprare le dip, cioè le fasi di correzione che avvengono. Quindi in questo caso ogni fase che vedete di correzione al trend principale è una fase di dip. Poi in questo caso sembra molto facile comprare dei minimi. Non sarà così, lo vedremo tra un poco. Però questa è la logica, quindi attendere una fase correttiva di un trend linearmente positivo. Alla fase correttiva noi andiamo a instaurare il nostro strumento di ingresso, la nostra strategia di ingresso per comprare quello strumento finanziario. Vediamo la strategia buy dei dip applicata al nostro amatissimo BTC. Ipotizziamo di avere uno strumento che ha una struttura di trend di medio-lungo periodo al rialzo. In questo caso è palese che BTC abbia questo tipo di trend. Vedete linearmente positivo, trend al rialzo. La strategia buy dei dip potrebbe consentirci di comprare in tutte le fasi di ribasso. Queste sono fasi di raccordo, fasi di ribasso contro il trend principale che resta rialzista e queste sono tutte fasi di buy dip corrette quando queste fasi di bassiste vengono messe e vengono concluse. Vi ho fatto vedere un grafico daily. Questo significa che questo tipo di strategia correttiva di un trend di medio-lungo periodo sul daily, che comunque è un trend sicuramente che dura anni, sarà una strategia di investing, quindi non di trading, perché l'operazione di trading con un buy dei dip la dovremmo gestire su time frame leggermente più bassi, perché un time frame daily per una buy dei dip è un pochettino troppo troppo alto e non ci dà il giusto ingresso su un mercato che ha fatto una correzione al trend. Proviamo a fare una cosa, questa è la logica generale. Ora andiamo su un time frame più basso e proviamo a fare degli ingressi magari scaglionati ragionando su time frame più brevi. Vi porto su quella che è la mia piattaforma che utilizzo su Prime XBT per fare questo tipo di operatività di trading, la ritengo estremamente utile e molto molto valida perché ci consente anche una serie di operatività come quello dello short selling, quello del buy, quello dell'utilizzo della leva. Mi piace veramente veramente tanto. Vi lascio tra le altre cose il link in descrizione di Prime con un super bonus di meno 25 per due fee e mi vi date come sempre un aiuto e una mano con i ref ragazzi. Quindi chi volesse usare Prime, link in descrizione. Questa fase qui è identica a quella che vi ho mostrato prima sul grafico, semplicemente rimpicciolita in quanto stiamo ragionando su un time frame molto breve. Cosa cambia ragazzi? L'entità dei movimenti, quindi quando facciamo trading su un time frame a cinque minuti non è che ci aspettiamo di guadagnare il 10, 20, il cento per cento, ci aspettiamo di fare un trade adeguato a un movimento su un grafico del genere, quindi molto piccolo, molto breve il grafico, molto piccolo l'eventuale movimento. Ecco perché in questo caso siamo nell'ambito trading perché ovviamente le operazioni dureranno poco, poco tempo e avranno anche margini ridotti di gain. Questo è importante considerarlo quando andate magari a gestire un take profit o un eventuale stop loss, in questo caso su un time frame del genere usate stop loss e take profit più piccoli, però la logica come si può facilmente notare non cambia nei buy dei dip. Allora questi sono tutti i movimenti che da ieri i bitcoin sta facendo con delle dip, ne ha fatti due. Uno che è stato chiuso questa notte e torna alle 4, uno pochissimi minuti fa. Volevo farvelo vedere prima che partisse, ma mi ha anticipato per una decina di minuti il mercato, quindi non mi ha dato la possibilità di farvi vedere l'ingresso che stavo pianificando proprio su questa dip per fare questo video, ma non c'è stato modo perché bitcoin fa sempre queste cose, ma bene così ragazzi perché quasi sicuramente è iniziato un nuovo ciclo, molto importante proprio nella giornata di oggi. Allora come facciamo a ragionare su una tecnica adesso per andare a dire su un trend di questo tipo io vado a comprarmi le dip. Dovete utilizzare i supporti di natura orizzontale. Vi insegno questa tecnica che è molto semplice, proprio semplicissima. Funziona da paura e soprattutto non usa nessun indicatore. Questa è la cosa più bella del mondo. Ovviamente non è perfetta come ogni tecnica di trading, però è molto interessante proprio perché la sua semplicità vi dà la possibilità anche di fare dei test, delle prove, entrate magari sul broker, vi registrate a Prime, fate un test con queste operatività e vedete se vi trovate. Ovviamente ragazzi mi raccomando non sono consigli finanziari e soprattutto se non avete formazione nel trading usate queste cose semplicemente per addestrarvi, per formarvi. Si parte dall'inizio del trend. Partendo dall'inizio del trend andate a prendere la prima struttura di resistenza che il mercato trova. In questo caso, dopo questa V, la prima struttura di resistenza è questa zona e iniziate a posizionare quelli che sono i livelli di resistenza sul grafico. Poi una volta rotto fa anche il classico meccanismo abbastanza visibile del break e poi pullback e poi inizia una nuova fase. Qui trova un'altra area di resistenza ed è la seconda su questo time frame 5 minuti e dopodiché la terza la vediamo qui. Da questa area di resistenza inizia poi la vera fase di leap. Cosa dobbiamo fare? Nel momento in cui il mercato trova una prima area di resistenza noi non facciamo assolutamente nulla perché in questo caso il mercato ha appena iniziato il trend quindi noi non sappiamo se questo sarà un trend al rialzo. Ma già quando break la prima fase abbiamo un primo livello che può essere indicativo di una buy the dip cioè la prima area di resistenza. Ora vi ricordo come spesso anche insegno nei miei corsi, tra l'altro la strategia buy the dip è una strategia che io spiego perfettamente nel mio corso basic it's trading time che trovate sul mio sito. Ragazzi vi lascio sempre il link in descrizione anche dei corsi per chi di voi volesse approfondire in maniera estremamente più importante e la spiego perché è veramente utilissima soprattutto nei mercati telecrypto perché sono mercati giovani e queste strategie funzionano bene. Quest'area cioè l'area subito sopra il primo livello di supporto diventa la nostra dip. Qui non ci arriva il mercato perché vedete si ferma prima dopodiché fa un'altra zona quindi noi possiamo considerare questa altra zona un'altra zona di dip. Dopodiché il mercato si fermerà qui inizierà la fase di discesa come vedete in questa fase qui potrebbe già eseguire il primo ingresso long è proprio sul primo livello di supporto che poi viene breccato e il mercato arriverà al secondo livello di supporto. Qui io farei due ingressi uno piccolino qui e poi il secondo scusate i miei disegni con il mouse terribili ragazzi il secondo un pochettino più importante magari qui farei un 30 70 se ci fosse un'altra area di dip qui farei 30 30 40 in modo tale da dividere il mio ingresso magari in tre ingressi e scaglionando il primo di meno il secondo così e poi il quarto magari qualcosina in più perché è più conveniente. Questo è un modo in cui noi possiamo entrare sul dip. Facendo questo tipo di ragionamento ci posizioniamo sul mercato in questo caso ci saremmo posizionati con un primo ingresso qui intorno più o meno al 30 40 diciamo 40 e poi un 60 in quest'altra parte qui con un prezzo medio che sarebbe andato a finire all'incirca a 32 e 5 32 e 6 mila dollari per quanto riguarda bitcoin. Cosa succede poi al mercato? Succede che se il mercato va verso la nostra direzione il buy the dip è stato completato cioè quando il mercato non non è che va verso una direzione perché abbiamo fortuna ragazzi va verso il trend principale perché ha già iniziato quel trend ecco perché il buy the dip non è un comprare contro trend ma è un comprare a favore del trend principale sull'ipotesi che i mercati i trend li continuino per un po' di tempo quindi se voi andate a fare un buy the dip a favore di trend la probabilità che il mercato continui quel trend al rialzo lo riprenda dopo un po' va a vostro favore ecco perché questo tipo di operatività va necessariamente costruita quando il mercato ha già un trend già un po' delineato ecco perché non iniziamo a comprare subito ma aspettiamo la ricaduta sui livelli di supporto in questo caso per esempio il caso specifico nella giornata di oggi bitcoin poi continua la sua fase di salita e tecnicamente va a rompere questo livello dopodiché noi potremmo anche continuare la nostra strategia buy the dip in questo caso quindi qui troverà un altro livello di resistenza e lo andiamo a posizionare ma nel frattempo qui abbiamo un altro ingresso perché anche questo è il livello di resistenza precedente una volta apprecato diventa un altro ingresso dip e quindi a questo punto avremmo un primo ingresso avvenuto in questa zona poi un secondo ingresso avvenuto in questa zona un terzo ingresso avvenuto in questa zona ultimo ingresso poco fa quarto ormai avete capito la tecnica perché il mercato brecca ritorna indietro e questi sono altri tip quindi 1 2 3 e 4 abbiamo pianificato i nostri ingressi ovviamente comprare l'infinito in questo caso non ha senso perché è un time frame a cinque minuti quindi il mercato probabilmente saremmo già andati in profit con una strategia di trading dobbiamo considerare che il mercato non può fare 10 20 per cento un caso se lo fa con magari oggi perché sta rimbalzando però un caso ragazzi ok quindi nel momento in cui andiamo a fare questo tipo di di ingressi andiamo a ragionare in questo modo e ci posizioniamo in questo modo facciamo un'altra cosa in questo super video tutorial lo so che è lungo ma i video di spiegazione sono lunghi andiamo a vedere dove quello attuale il nuovo dip attuale eccolo qui perché qui era stata la precedente resistenza quindi io a questo punto potrei dire se bitcoin mi torna in questa zona provo un altro dip siccome prime mi consente di inserire il mio ordine direttamente sul grafico io a questo punto vado qui con il mouse in questa zona più o meno 35 5 qualcosa premo clic e faccio buy in questo momento insomma io ho un migliaio di di dollari quindi dico ok comprami facciamo 0 1 tanto abbiamo la leva ok di btc e vado in buy il l'ordine è stato inserito quando sbtc scenderà su questo livello mi farà la mia dip abbiamo cavalcato il mercato in questo modo facendo delle operazioni di trading proprio per entrare bene per oggi è tutto abbiamo finito questa è una strategia molto interessante molto semplice utilizzando soltanto i supporti orizzontali riusciti a fare questo tipo di operatività cosa ne pensate fatemi sapere come sempre nei commenti del video e lasciatemi mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti